ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi video che vi avevo già annunciato nel video di venerdì infatti sarà un video in cui rispondo e confermo le vostre assumptions su di me quindi le vostre assunzioni, ciò che assumete su di me e l'ho fatto appunto tramite una domanda nelle storie di instagram e mi ha fatto molto ridere perchè certe cose sono molto azzeccate altre sono completamente l'opposto e questo video non avrà suoni particolari magari avrà giusto qualche brushing, camera questo perchè in tanti mi hanno chiesto un video di sorvoce, niente suoni quindi visto che io leggo tutto o almeno mi sembra di leggere tutto cioè che mi scrivete sui vari social su youtube eccetera cerco di accontentare sempre per qualche rischio quindi siete curiosi e tra parentesi questo lo trovo un modo carino per intanto imparare conoscermi un po' meglio farvi un'idea un po' più giusta di me e soprattutto lo trovo anche un modo per dimostrare quando in realtà non si possa assolutamente conoscere una persona attraverso uno schermo e quando ci si possa fare un'idea sbagliata quando non ci si possa fare un'idea di come una persona sia veramente attraverso uno schermo non giudicate mai una persona da ciò che vi mostra sui social o su youtube perchè comunque questa persona se non la conoscete dal vivo non la conoscerete sarà solo apparenza e quindi insomma è è un buon insegnamento questo video e ok allora ho scelto come prima una cosa che non mi aspettavo sinceramente ed è il sei per malosa? no è una cosa che non mi appartiene per niente e adoro 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 questo lato del mio carattere non non sono per malosa perchè in generale riesco abbastanza bene a non dare importanza al giudizio anche cattivo della gente e sono una persona che conosce molto bene i suoi difetti e che benché cerchi di migliorarli che comunque li accetta e sono una persona anzi estremamente autoironica e ne vado molto fiera e hai pochi amici poi hai pochi amici ma ben selezionati vero in realtà più che ben selezionati ben cioè che mi conoscono e che conosco da tanto tempo per essere il mio amico veramente devi conoscermi molto bene e devi anche un po' imparare ad accettare il mio carattere e come con tutti no? e in generale io non credo nelle troppe amicizie soprattutto a lungo termine credo che certe persone comunque per quanto tu gli voglia bene siano destinati a sparire dalla tua vita e certe persone sono destinati a rimanere negli anni quindi posso contare i miei amici sulle dita di una mano ma spero siano fidati e per sempre poi sei una persona diretta non hai paura di dire agli altri quello che pensi di loro vero ed è anche per questo che vi dico che mi si deve imparare a conoscere mi si deve un po' accettare non sono una persona che sparlotta dietro e fa il sorrisone davanti sono una persona che quando c'è un problema lo dice quando c'è qualcosa magari che bolle dietro da un po' e che sento voci di qua voci di là no 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 io lo dico io affronto e piuttosto faccio la figura un po' della str 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 però io sono veramente fatto così non riesco a dire mille cose per me e non riesco a sopportare il fatto che una persona dica una cosa a me e poi quando c'è veramente da affrontare l'argomento con l'altra persona non lo dica sono convinta anche che le persone che veramente mi vogliono bene apprezzino questo lato perché io dico le cose che penso dico le cose come stanno e quindi a un certo senso ti puoi fidare di me se le cose che non mi vanno bene le dico ovviamente le cose importanti non non ti sta bene quel vestito a me già può darsi che rotina che fa proprio in generale insomma secondo me ti piacciono i film di fantascienza e quelli di animazione più quelli di fantascienza quelli di animazione diciamo più quelli vecchi tipo un mesetto fa ho riguardato la spada nella rotta un mesetto fa ho riguardato la spada nella rotta che adoro oppure Mulan Cenerentola la silenetta però i film di fantascienza e i film che mi piacciono di più in assoluto quelli che cerco in continuazione sembra brutto da dire però giuro sulle catastrovi naturali tipo Vulcano io ho guardato tutti i film possibili immaginabili sui terremoti tutti e per questo ho anche paura di andare in California per il big one o il terrore di andare in California ok passiamo a una che mi avete scritto in tantissimi ma veramente tanti e mi dispiace molto dell'utile aspettative in questa casa però c'è tipo qui c'è tutto ciò l'opposto in senso di allora secondo me sei sempre stata molto studiosa no non ho una passione per lo studio negli anni ho cominciato un po' di più ad apprezzarlo dovendolo fare però no non sono una persona particolarmente studiosa e molti mi dicono che secondo me sei bravissima all'università andavi benissimo a scuola no? in parte anche perché alle superiori io facevo anche il conservatore la pallavolo quindi sono sempre stata una persona con mille cose da fare e lo studio poi andava in secondo piano e anche adesso non l'ho mai nascosta questa cosa che io sono poi al sesto anno di università al posto del quinto e è stato anche perché avevo appunto tante cose da fare e non sono riuscita a dare la precedenza allo studio comunque sei bravo in matematica? no no ragazzi no e odi ritardatari lì allora io sono una ritardataria accademica diciamo che sfrutto molto il quarto d'ora accademico ho sempre un ritardo cronico di una decina di minuti di solito non di più non sopporto che arrivi a ritardo di un'ora un'ora e mezza due ore di gesto arrivando arriva dopo mezz'ora no mai cioè se lo faccio proprio avviso mi scuso fino all'eternità e però il ritardo cronico dieci minuti sì tipo sempre cioè tipo sempre davvero e sono fortunata ad avere un gruppo di amici che ha tutto questo concetto di ritrova alle nove in realtà è ritrova alle nove e un quarto quindi e si dice nove perché si intende nove e un quarto e ok secondo me sei una persona molto sentimentale che si lascia trasportare dalle emozioni vero ah sono una persona estremamente emotiva soprattutto quando sono sotto esami cosa è tipo che è accaduta sempre nell'ultimo arco dell'anno quindi nell'ultimo anno nell'arco dell'ultimo anno e quando sono tipo sotto esame mi ritrovo a piangere anche per delle pubblicità tipo della coca cola che obiettivamente sono fatte bellissime però in generale sì mi piace trasportare veramente dalle emozioni tanto e sono anche un po' una sognatrice che è un po' collegato ecco sto dicando è una media alta no? è migliorata la mia media con gli anni ma non ho mai studiato tanto poi abbiamo sei una tisana addicted sì non tutti i tipi di tisana e io bevo solo tisane alle erbe però le adoro io minimo minimo una tisana al giorno ce l'ho ma molte volte arrivo a due e posso arrivare anche a tre e ho cercato un annetto che bevo tisane prima non non ne avevo mai bevute e le adoro veramente io sono dipendenza alle tisane e mi aiutano tantissimo a bere quindi mi fanno anche tanto tanto bene secondo me sei mattiniera per poter uscire presto e passeggiare mentre la città si sveglia allora a mente che mi piacerebbe veramente tanto io ho provato tantissime volte a dire ok mi alzo anche mezz'ora prima e arrivo un po' prima dove devo andarmi con un po' di silenzio e la calma ma non ce la faccio ragazzi c'è soprattutto d'inverno io amo il letto adoro il caltuccio del letto sono la tipica persona che rimanda la sveglia centomila volte tipo sei svegli una mattina e comunque riesco a dimenticare il mio letto quindi mi piacerebbe molto è un mio obiettivo futuro ma non so se ci riuscirò mai una altra è sei introversa per niente mi ritengo una persona estremamente estroversa faccio amicizia prendete un punto con le virgolette con niente e mi metto a chiacchierare con chiunque in quale situazione e se mi vedi all'esterno pensi che io conosca quella persona non dico da sempre ma abbastanza alcune volte io ride scherzo con persone di cui non sono anche il nome e che probabilmente non incontro mai nella mia vita di nuovo e che ho conosciuto a 5 minuti oppure anche al mare io non avevo assolutamente mi buttavo proprio dicevo vedevo anche delle altre persone della mia età e mi buttavo mi presentavo subito io non ho mai avuto problemi di questo tipo e mi piace molto questo mio lato ok poi secondo me non amo andare in discoteca vero diciamo che non amo andare in discoteca soprattutto d'inverno nella mia città e ora in realtà neanche d'estate però un tempo adoravo andare in discoteca cioè adoravo mi piacevano molto le serate in cui si andava in discoteca in realtà anche ora qualche volta mi piacerebbe però diciamo che o mi sento vecchia perchè sono tutte quindicenni e comunque dicenni più quindi quindi e oppure la musica non mi piace cioè a volte trovo della musica veramente per cui non si può ballare e non la sopporto e oppure non lo so non mi sembra il mio luogo però in realtà ho avuto delle serate in discoteca soprattutto al mare ed estate così molto molto belle e che ripeterei molto volentieri ok poi ti piacciono i pisolini pomeridiani sul divano? ok la domanda è a chi non piacciono? il problema è che non è un pisolino è un pisolone io se mi appoggio sul divano il pomeriggio ci sono alle 2 alle 5 quindi cerco di non farlo mai perchè è deleterio poi non mostri più di tanto qui sui social la tua vita sentimentale vero? il mio ragazzo è una persona che non è proprio pro social e non ha instagram almeno ce l'ha ma glielo ho aperto io e non lo usa cioè se questo è una pagina di un car Loki the wolf dog adoro e a facebook giusto per lavoro l'unica social che segue LinkedIn e quindi diciamo che anche lui non sarebbe tanto felice a comparire diciamo davanti alla telecamera così una persona su questo lato molto 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 diverso da me e comunque mi sembra giusto mantenere certi lati della propria vita privati quindi sì ok altra assumption se è religiosa sì cristiana cattolica lo sono sempre stata ho stata battezzata da piccolo ho fatto confessione comunione cresima e ho continuato dopo a frequentare la chiesa non non sono una persona che diciamo si arrabbia si offende se qualcuno dice che non crede sono una persona che però non sopporta le bestemmie ha dato le bestemmie in qualunque religione non solo in quella cristiana trovo che siano una forma di non rispetto e non lo so non è non mi cioè c'è un motivo anche perchè sono religiosa proprio in generale non mi piacciono le persone che bestemmiano non non ho amici che bestemmiano e no e sono contenta di essere religiosa e trovo che comunque la religione aggiunga veramente tanto significato alla propria vita e ci sono stati momenti in cui mi sono un po' allontanata e mi ricordo veramente momenti senza significato a volte certe esperienze che faccio attraverso il mio credo c'è tipo anche i campeggi serate così sono così tanto profonde che non ne puoi fare a meno spero di essermi se è stata chiara e poi ci tieni a far star bene le persone cerchi di fare cose belle per gli altri che li rendono felici mi mi cioè sì vorrei ho il difetto che molte volte le giornate mi volano mi passano vorrei tanto dico adesso magari vedo una cosa carina per un'altra persona dico adesso la compro adesso faccio questo adesso faccio quell'altro poi quando arriva il momento mi sono scordata perché ho metto altri pensieri però in generale sono una persona a cui piacerebbe tanto essere così e sto cercando di essere così di più non è per niente facile però per niente non tanto perché non mi piaccia quanto perché mi passa veramente di niente ogni volta però rendere felice una persona ti rende felice rende felice anche te sempre sempre ne vale sempre la pena ok poi penso che tu sia la tipica persona precisa no 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 un po' male il pranzo aspetta un attimo di fare camera brushing allora purtroppo no infatti anche molti mi ha scritto penso che tu sia una persona molto organizzata con sempre non so se lo trovo qui sempre le cose sotto mano se non hai le cose come voi te impazzisci no dovrei perché fra università canale e altri impegni dovrei organizzarmi decisamente meglio ma la tipica dimostrazione che non sono una persona organizzata è che sono le 9 e mezza di domenica sera e questo video devo uscire domani e lo devo editare stasera quindi ok spero vi state un po' divertendo anche spero non vi stai sconvolgendo non è una cosa tipica di ora ma penso che sarà una mamma fantastica non so perché grazie è dolcissimo l'ho voluto includere perché è dolcissimo ecco appunto secondo me sei una ragazza molto organizzata e responsabile purtroppo no sto cercando in tutti i modi di rendermi una persona più organizzata e più responsabile ma però lo sto davvero fallendo ma devo imparare cioè non è questione di dovrei imparare è una questione di devo imparare per la mia sopravvivenza cioè se voglio continuare a fare tutte le cose che faccio devo ok poi credo che tu sia una persona che creda che dà il 100% in quello che fa e non lascia le cose a metà sì la prima parte no la seconda parte nel senso aspettate che ok ho cercato di fare il meno casino possibile perché cerco di non fare tagli perché appunto devo editare il video stasera e se mi piace una cosa sto il 100% mille per mille però sono una persona che lascia molte cose a metà e in questa cosa non mi piace però ad esempio non so ho provato tantissime volte a tenere un diario segreto o a segnarmi una cosa al giorno o a fare boh non so ma fare una cosa tutti i giorni che prima non era nella mia routine ma non molte volte dopo smetto quindi in realtà alcune cose le lascio a metà e sono una persona un po' scostante nelle cose che non la appassionano veramente nelle cose per cui invece sono veramente appassionata ci metto comunque al 100% e finchè le faccio comunque ci metto al 100% mettiamola così poi ricominciamo il camera brushing non dormi con le coperte rimboccate falso io dormo con le con il lenzuolo anche ad agosto fondamentalmente adoro ok poi qui c'è un non non so perché l'ho scrisciottata vabbè secondo me non è il passaporto è il porto delle montagne russe ho il passaporto ma l'ho fatto molto recentemente e ho il porto delle montagne russe e faccio un po' la spavolta diciamo che quando sono andata a Gartan dell'anno scorso quando ti trovi poi lì sei un po' lì forse era meglio stare a Gartan però prima sono un sacco casata quindi non particolarmente ho paura particolarmente poi secondo me sei una persona molto pigra yes anche questo odio del mio carattere sono una persona che procrastina tantissimo e sto migliorando però sono una persona molto pigra e veramente non lo sopporto questo odio del mio carattere voglio assolutamente migliorarlo proprio assolutamente voi sei intraprendente e sicura di te scusate ma ho buono veramente l'approccio si intraprendente anche nel senso che alcune volte proprio dico ok basta lo faccio e lo faccio così a caso senza organizzazione senza niente e mi piace fare tantissime cose per quanto riguarda la sicura di te anche sono sempre stata una persona abbastanza sicura di me stessa non per chissà che cosa semplicemente non ho mai avuto problemi di autostima o almeno generale autostima no sempre stata una persona abbastanza sicura di me stessa cioè non perché me la dire o perché mi piaccia particolarmente ma non lo so e ok infatti poi c'è per me essere una persona a cui piace avere tutto sotto controllo non per forza negativamente vorrei tanto ma non ce la si fa io comunque non sono una persona diciamo a me un po' piace vedere come vanno le cose non sono una che programma le cose in modo molto ossessivo anche tipo i viaggi non mi piace ok poi vediamo perché ci sta qualche domanda secondo me e poi basta e quindi alcune sono un po' ripetute ok poi c'è secondo me non sei una persona che riesce a essere arrabbiata per tanto tempo vero c'erano anche frasi che dicevano secondo me quando ti arrabbi sei una ghina tipo sei molto paziente ma poi quando ti arrabbi sei terribile ma non sono una persona particolarmente paziente però si non è che mi arrabbi però sono una persona che quando si arrabbia veramente tanto fa una scenata indicibile indicibile lo assicuro e però allo stesso tempo magari mi arrabbio per una cosa e poi dopo non mi accorgo cioè magari qualcuno mi dice ma sei ancora arrabbiato io non mi ricordo neanche per cosa ero arrabbiata dico non ricordarmelo che ero arrabbiata perché non me lo ricordo poi sorride qualcuno se incroci lo sguardo vero? soprattutto quando appunto sono di buon umore muore mi piace sorridere alle persone perché è gratis e secondo me può veramente migliorare la giornata di qualcuno quindi si è molto bello secondo me qualcosa di apparente si sa fare in generale secondo me sei suonato il pianoforte ho suonato il pianoforte dalla quarta elementare alla seconda media e poi ho ricominciato come pianoforte complementare due anni alle superiori ho le basi quindi se voglio imparare qualcosa di medio basso lo posso fare però se mi devo suonare qualcosa ora no però comunque ci riuscirei diciamo che ho studiato appunto abbastanza provenire particolarmente bravo ok 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 poi in un'ipotetica lita mi dai l'impressione di essere quella condiscente che anche se sa lascia perdere purtroppo 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 dal bruttissimo video di voler avere di voler avere sempre ragione a questo dato il mio carattere so essere odioso non è bello e anche questo sto cercando di migliorare però alcune volte non riesco proprio appunto con questo dato il mio carattere che non riesco a non dirla mia a volte non riesco proprio a mollarci perché penso che l'altra persona non stia capendo in realtà semplicemente la pensa diversamente da me però a volte trovo che sia così insensato che non capisca ciò che dico che continuo a dirlo è una cosa un po' strana però cioè dipende dalle occasioni in realtà dipende anche da chi ho di fronte se ho di fronte qualcuno che proprio dico vabbè non ce la può fare lascio perdere tipo su internet sempre però anche nella vita reale sì dipende dalle persone però se sono una persona soprattutto che conosco bene invece sono terribile sono incapace di andare avanti per un'ora purtroppo ok ok ci sono le ultime sette domande però prima vorrei abbassare le luci quindi è giunta l'ora di abbassare le luci e rispondere e rispondere alle ultime domande con un po' più di close up ok parli alla sveva come se fosse una persona che ti può rispondere vero? in certi casi qua si risponde anche giusto per giustificare il mio comportamento comunque si sembri antipatica ora non so se questa persona l'abbia scritto nel senso proprio sembri antipatica come cosa vera tipo mi insulto però in generale molte persone mi dicono che ha primo acchitto 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 sembra una persona che se la tira molto e abbastanza con la puzza sotto il naso l'antipatica quando sono antipatica una cosa che è un po' personale però butto sotto il naso che se la tira proprio lungi da me tutto ok questa è molto particolare ma azzeccata l'ho detto molte volte forse l'ho detto anche qui secondo me non vorresti vivere all'estero poiché ti piace l'Italia ma ami viaggiare io trovo che in Italia almeno io in Italia vivo bene ha mille mille difetti però non mi ci vedo a vivere in un altro paese sinceramente secondo me il bello di viaggiare e anche poi il tornare a casa non sarei mai capace di stare via quattro mesi da casa e quindi sì in realtà è vero secondo me è bellissimo viaggiare è utilissimo viaggiare però è bello anche tornare a casa ok hai una faccia da Angelo ma sei pettegola? no cioè pettegola nel senso magari c'è uno scoop di qualcosa però però in generale non sono una persona particolarmente pettegola sono una donna quindi ovvio che il pettegolezzo diciamo che proprio non lo rifiuto però no non sono particolarmente pettegola appunto perché certe cose mi piace dirle in faccia ok così è finito e secondo me sei una persona secondo me non indurassesti ma hai roba di seconda mano sbagliatissimo pare che questa è tipo la felpa di 40 anni fa e io adoro mi è sembrato anche di dirle in un video io adoro i negozi dell'usato li amo alla follia e come amo comprare cose nuove adoro trovare pezzi unici e di altri tempi altri stili e di altra qualità ai mercatini dell'usato quindi totalmente sbagliato vuoi avere figli presto appena felici di studiare un tempo pensavo di che fosse così in realtà adesso voglio un po' godermi la libertà con calma ok tocchi qualsiasi cosa alla ricerca di un bel suono per il canale vero anche davanti a altre persone a volte imparazzante ok secondo me prima di affrontare la giornata ti piace fare una buona colazione vero la colazione è il posto che più amo durante la giornata e se posso farla lunga la faccio lunghissima adoro fare colazione ultima domanda siamo arrivati qua all'inizio sei fretta con le persone poi man mano le conosci diventi dolcissima e simpatica no appunto come vi ho detto io sono una persona mi devo reggere il prozzo andiamo di conto sono una persona estremamente espansiva sono una persona per niente fredda quelle persone anzi molte volte sono fin troppo espansiva e magari tendo un attimo anche a invadere lo spazio di altre persone cioè no vuol dire in generale sono una persona che tende ad essere molto più espansiva che fredda all'inizio assolutamente no e quindi niente io spero davvero che questo video vi sia piaciuto mi piace siete arrivati fin qui e spero che non vi abbiano sconvolto queste cose su di me e so che appunto molti si hanno fatto un'idea sbagliata un po' su di me ed è appunto una dimostrazione che potete credere quello che volete ma una persona non la conoscerete mai fino in fondo su youtube non riuscirete mai a capire se è falsa se non è falsa se se la tira non se la tira e altre cose in generale per conoscere una persona ci vuole è troppo tempo cioè è impossibile e soprattutto qui sui social una persona mostra solo quello che vuole mostrare ricordatevelo sempre quindi io vi mando la buonanotte 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 sogni d'oro buonanotte si sveglia good night sweet dreams buon nuit buon nuit buon night buonanotte buonanotte pasticcini grazie di essere stati qui con me vi mando un bacione che li spera